Buongiorno a tutti, ben ritrovati carissimi telespettatori di FanoTV, questa è la rassegna stampa delle 7.30 del mattino come sempre in diretta con le repliche che poi si susseguono fino alle 8.30, poi alle 9.10 e alle 13.30. Allora cominciamo subito dal santo del giorno, oggi è Santa Aureliano Vescovo, il sole è sorto alle 5.24, tramonterà alle 20.53, il tempo non inganne questa bella fotografia scattata dalla nostra centralina meteorologica, dal nostro osservatorio, ma arriverà il tempo brutto anche oggi, 22.04, questa è la temperatura delle 7.30, dicevo il tempo oggi si guasterà, inizialmente sarà pacco nuvoloso con maggiori addensamenti lungo il crinale appenninico, poi però dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità anche nel resto della regione, quindi sulla costa, dal pomeriggio infatti saranno possibili rovescio temporali sparsi da prima nell'entroterra, poi come dicevo sulla costa, temperature senza variazione di rilievo, eventi di brezza leggera o tesa. Per domani tempo ancora peggiore, tempo ancora più brutto rispetto a quello che arriverà oggi perché sarà una giornata con precipitazioni sia nella prima parte della giornata, con rovescio temporale diffusi più insistenti lungo la fascia costiera, con fenomeni in esaurimento poi dal pomeriggio, le temperature ovviamente sono in diminuzione, eventi in nord orientali. Poi il tempo bello che finalmente arriva giovedì, 18 di giugno con sereno o poco nuvoloso, cumuli di bel tempo su tutta la regione praticamente con temperature in aumento. Lieve variabilità invece per il fine settimana, venerdì e sabato con possibilità di brevi rovesci e condizioni stabili e soleggiate invece a partire da domenica. Allora cominciamo a leggere i giornali, la cronaca a Pesaro, quest'uomo lo vedete nella fotografia, si chiama Fabio Visetti di 40 anni, originario di Torino, invalido, senza fissa dimora, ha cercato di entrare nella notte nel comune di Pesaro, nel municipio, è stato bloccato dalla polizia, lui ha detto volevo dar fuoco a tutto, è stato arrestato, puntava alla stanza del sindaco Ricci, alle 3 di notte stava prendendo a calci il portone principale, visto ed arrestato da una pattuglia. La pagina di Fano, viaggio al termine della bottiglia, incontro con gli alcolisti della città, si vedono tutti i lunedì dopo cena nei locali messi a disposizione gentilmente dalla parrocchia di San Paolo, con molta discrezione e riservatezza perché si tratta degli appartenenti al gruppo di alcolisti anonimi di Fano, fanno un fortuna che quest'anno festeggia i suoi 23 anni di vita. Il problema dei giovani, iniziano a ubriacarsi nei fini settimana e lo sballo spesso li porta all'alcolismo. Poi sotto, sulla pagina di Fano del Carlino, è letto il Consiglio Generale, ecco i nuovi componenti, sono stati nominati Franco Battistelli, Pierpaolo Fraticelli, Gabriele Frausini, Tonino Giardini, Luca Guerrieri, Maria Francesca Mariani, Corrado Piccinetti. Poi ce ne sono altri, 7 che sono stati designati dall'Assemblea dei Socii, o meglio ci sono quelli che sono stati designati dal Comune, dalla Diocesi, dall'Università di Urbino, tutti i nomi che potrete leggere sul giornale di questa mattina. Il prossimo 29 giugno, il nuovo organo che vede la presenza di 9 nuovi consiglieri su 14, verrà formalmente insediato e si provvederà alla nomina del suo vicepresidente. Ancora cronaca, da Mondavio, droga alla capricciosa gestore patteggia 3 anni e 7 mesi di reclusione per un 41enne che spacciava in una pizzeria. Poi a Serrungarina, un incidente ferma la fuga dai domiciliari di un napoletano di 45 anni, fanese di origini napoletane, è stato fermato perché si è trovato in mezzo a un piccolo incidente. Poi dopo dai controlli è emerso che questo 45enne aveva i documenti scaduti, o meglio la patente di vita scaduta, e poi su di lui doveva essere gli arresti omiciliari, quindi è stato condannato dal giudice a 8 mesi. Andiamo avanti, cambiamo argomento, sempre dal resto del carlino. Il sostizio della melodia, concerti in centro al mare e al mare. Fano aderisce alla festa della musica europea. Il 21 giugno, iniziativa aperta a tutti, 14 incontri musicali in 16 luoghi suggestivi. Ci sarà musica per tutti i gusti, a Lido anche un omaggio a Frec Antony, scusate, scomparso, leader degli schiantos. Poi, migliaia di bambini ammassati a nemmeno un punto di soccorso, un padre racconta l'odissea di sabato sera alla mezzanotte bianca, la città che protesta, mio figlio è caduto, svenuto, ho dovuto portarlo fino all'ospedale in braccio. La risposta peggiore è stata quella che si è sentito dire questo genitore, mi hanno detto che non c'erano i soldi per tenere un'ambulanza fissa. Ripascimento tutto da rifare, il mare si è mangiato tutto, la spiaggia di Levante, centinaia di metri cubi risucchiati e l'appello dei bagnini, i 3 milioni di euro stanziati dal comune di Pesaro, vadano per le scogliere alla foce del Genica. Apriamo il Corriere Adriatico, la cronaca da Pesaro, Vespa contro un'auto, una ragazza è rimasta ferita nella zona di Tombaccia, tra via Gradare e via San Marino, una giovane 28enne che si è scontrata intorno alle 10 con una Fiat Panda, alla cui guida c'era un 37enne proveniente da lì per Rossini. Poi a centro pagina invece si suona e si pedale, identità eccellenti, cartellonistica e arredo urbano, il sindaco di Pesaro Ricci, così valorizziamo i due assi portanti su cui puntiamo. Poi dalla pagina di Pesaro invece da Urbani ha chiuso il ponte dei conciatori, Tagliolini, il presidente della provincia dice c'è il rischio di ulteriori cedimenti ed ecco allora come cambia la viabilità. Da Fano invece la strada delle barche ci sono risorse, insieme al dragaggio due dei risultati ottenuti di cui il sindaco rivendica la paternità, anche la giunta Guzzi intendeva far ricorso agli utili di Aset per chiudere il bilancio. Poi sempre dalla pagina di Fano del Corriere, da Pergola confermate i 30 anni di prigione, tre ore di requisitorio del PG Fontana nel processo d'appello contro l'avvocato Ciccolini che ha ucciso la sua ex fidanzata Lucia Bellucci di Pergola. La sentenza tra sei giorni da Senigallia, moglie sospettosa, si rivolge ai vigili urbani perché trova una multa nella giacca del marito e teme una sanzione antilucciole. Siccome trova una multa nella tasca della giacca del marito per un divieto di sosta contestato alle 23 sulla statale e invece di chiedere spiegazioni al marito, la moglie gelosa si è recata al comando della Polizia Municipale di Senigallia dove non ha però ovviamente ottenuto dettagli. La pagina di Pesaro invece del messaggero, expo il balletto dei biglietti agevolati, non arrivano questi biglietti nonostante le prenotazioni, protestano gli studenti iscritti all'Università di Urbino e finalmente la situazione si sblocca. Poi dalla regione, la giunta Ceriscioli che tarda ad essere partorita, insomma doveva essere questione di due giorni, così come disse a inizio mandato, poi in realtà a quanto pare la questione è un po' più complessa. Il PD rovente la casella di macerata che scotta, dunque la maggioranza del PD chiede Marcolini, comi in lizza anche lui, pronto alle barricate, insomma il Presidente punta ad annunciare sabato la nuova giunta, il problema dell'Udici non vuole indicare donne. Rifiuti sempre appesano in centro, i negozianti dicono basta, dopo le proteste per i sacchetti in strada alla mezzanotte bianca, in tanti chiedono di modificare gli orari della raccolta porta a porta. Poi maturità si parte da domani, gli esami per quasi 3.000 studenti, la dirigente provinciale Tinazzi dice il blocco degli scrutini e le sostituzioni nelle commissioni non hanno creato disagi. Il Mamiani anche quest'anno è l'unico istituto con il 100% di ammessi, in coda Santa Marta e Branca. Tax Day, il giorno delle tasse, ultimo giorno per quelle comunali, contribuenti in fila alle poste e nelle banche. Ieri mattina ancora tanti in coda all'Ufficio Tributi per chiedere informazioni su i mutari e tasi. Chiudiamo con la pagina di Fano del messaggero. Profughi al lavoro tra verde e sociale. L'assessore Barnesi saranno al fianco delle associazioni del volontariato, non rubano il posto di lavoro a nessuno. Uno dei rifugiati sarà occupato come operatore di un emittente che si occupa di immigrazione. è la web tv Noi Mondo TV, questa che si occupa appunto di immigrazione. Allora dicevamo, il comune stila la road map, la mappa delle asfaltature. I primi cantieri già si sono insediati nella zona dell'ospedale. Si proseguirà fino al 10 di luglio e nel frattempo alcune strade resteranno chiuse al traffico. È tutto per la rassegna stampa di oggi, grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata e vi ricordo che questa sera alle 20.30 c'è il nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Arrivederci.